Allora cosa fai adesso? Ho un po' di grattini. Sì, dai, vediamo i grattini, dai, dai, vai, vai, vediamo, vediamo che bella giornata che è oggi. Oh, che ne ho tolti tantissimi, però che ne gratta solo 3-4, dopo stasera o dopo, quando che vuole, perché devo tenere il bambino in braccio adesso mentre Dennis finisce di fare il traslopo. Pronti, pronti, pronti. Allora non vedo l'ora di tenere il bambino in braccio. È da mangiare di baci, è profumato come un marshmallow, da riempire dei baci, mamma mia. Ecco, pronti, andiamo. Eh, vai. Sei tutta emozionata. Per start oggi. Per start. Grattiamo per start. Niente. 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 Oh, vediamo. Qui c'è niente. Qui andiamo. Niente. Qui andiamo. Niente. Eh, ma se non ti gratti l'ultimo, mamma, guarda che c'è uno. Sì, sì, sì. Eh, ok, ok, a posto. Ma, eh, eh, eh. È il 17. Ma ti dici che porta sfortuna. Invece, cos'è vero? Te l'ha fatto vincere tante volte. Sì, va bene. Ecco. Oh, adesso. C'è, c'è. No. Eh. No, no. Niente. Il 2 e l'1. Niente. Poi, grattiamo qui. Niente. Niente. 36, 33. Quasi. 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 Vai. 21. Quasi. Mamma mia. 45, 30, 40 e? E 48. Eh. Che cattivi, che cattivi. Eh, va bene, va bene, dai. Cattivi proprio. Eh, vennerà la prossima. E qui là che dopo ti ti studi ben. A prossima volta. Vai, grazie. Allora. Questo non so com'è che sia questo. Non ho idea. Questo deve essere qui qua? Qui, qui. Guarda bene, guarda bene. Non so, mamma, guarda. Questo deve essere. Tre robe uguali? Almeno. Non so. Sparo a caso. Eh, 15, 15. E poi? 20, 20, 20. Niente, 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 niente. Niente, andiamo sotto. E ora qui, qui. Qua, aspetta. 15, 15. E? No. Oh, sì. Non so, mille, mi. No, quasi 150.000, mamma. Ah. No. 15, 15, 15. 15, 15, 30, 25. No, niente, mamma. Niente. Niente. Gioco due e via. Qua, questi fiorellini. Ah, mi piace di più, mi questi fiorellini. Ecco. Oh, qua. Andiamo qui e vediamo. C'è uno, due, uno, due, uno, due. No, niente. 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 No, non c'è uno, tutti e due. Cariola. Tutti e due. È brutto. Mamma cara, oh. Che tirchi, tacani. Poi? Un porcellino. Ah no. Questa sì che roba l'ha. Oh, vediamo qua. Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo. Questa sì qui. Eh. Boh. Sorpresa, 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 sorpresa. Niente. Niente. Niente, niente. Ecco. Bene, andiamo via. Sono i labbi. Vediamo. Non c'è niente proprio. Eh sì, il porcellino, eh. Andiamo avanti. A cosa? Niente. Vabbè. 24. 3. 3. 11. 11. 5. 5. 13. No. Ah sì. Pronti. Allora. 14. 14. Niente. 16. 16. Niente. Cosa c'è? 20. 25. 25. 25. Niente. Niente. 24. 24. 24. 15. Eh no. Niente. 2. 2. Tica al 3. Niente. 6. Tica al 5. Niente. Che simpatici comunque. qua. Sì. 1. Niente. Niente. 4. E ti calmerai. Niente. Sì, sì. Molto simpatici. 18. Mi diverto tanto. Mi può ve lo stoccarare. Facciamo fagotto. 22. Niente. 23. Niente. Niente. Sette. Niente. 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 L'otto. Niente. Niente. E 12. Niente. Niente. Va bene mamma dai come al solito. Come al solito. Non importa. Buon compagno. Cominciamo? Dopo andiamo a grattare anche al resto. Adesso vado a ciappare il poteo. Domani. No. Dopo. Dopo. Più tardi. Più tardi. Più tardi. Ci vediamo. Sì. Ci sentiamo oggi. Sì. Va bene. Va bene. Buon.